Mandiamo questo video, poi ci guardiamo e pensiamo Certo che la tipica pariola romana la potevamo pubblicare due anni dopo E quindi lei mi fa, e pubblichiamola E io faccio, e vabbè pubblichala Il giorno dopo un milione di visualizzazioni In un giorno In un giorno un milione, cioè Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Persone Il podcast che racconta la vita delle persone Nella puntata di oggi ho intervistato Aspetta, ma pensa che è figo Un format in cui prendi una canzone famosa Cambi le parole per parlare di stereotipi Ma che sta a dico? Ma che idea è? Proprio banale È come aprisse un po' Ma infatti che ci vuole Ma... Allora oggi Michele ha intervistato Caterina e Ilaria Le stereotipe Noi non abbiamo niente da aggiungere Quindi persone... Buona visione! Levati Nella puntata di oggi abbiamo Ilaria e Caterina Dette A.K.A. le stereotipe Sono un duo Si può chiamare duo? Come no? Direi di sì Ma io quello che faccio all'inizio Prima di entrare nella vera dinamica di questa puntata È parlare un po' delle persone Quindi chi ci sta dietro le stereotipe Che nonostante non abbiamo raccontato Quindi dopo andremo a raccontare chi sono le stereotipe Adesso ci concentriamo su voi due Introduzione Inizia Ilaria Mi racconti un po' Quello che vuoi te Cioè sei tu in questa parte della puntata Sono le persone che dicono cosa raccontare Ho 24 anni 25 come qualcuno ha provato a dire Vivo a Roma Eppure questo penso si sappia Mi sono laureata Diciamo Magari non vedo niente a nessuno Ma diciamo Comunque Mi sono laureata a novembre magistrale In relazioni internazionali Mi sono ritrovata qui Per gioco Ma ora Sembra Stiamo facendo sul serio E che vi posso dire? Come vuoi Puoi andare anche Cioè puoi dirmi anche questo È quello che voglio raccontare Sì Ok Rimango Prego Salve Buonasera Buonasera a tutti Vai No io mi chiamo Caterina Ho 24 anni E attualmente Che faccio nella vita? Questa è una bella domanda No mi sono laureata anch'io Chi sei? Chi sono? Che è diverso È molto difficile descrivermi Cioè ora mi metti molto in difficoltà Perché La domanda più difficile Ecco no 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 Il focus è questo Che la domanda più difficile per me È descrivermi Cioè è dire chi sono Io faccio sempre fatica Quando mi chiedono chi sei Che fai Come ti presenti Io faccio sempre fatica A rispondere a questa domanda Perché Ti posso dire Quanti anni ho Che vengo da Roma Che Mi piacciono tante cose Mi sono laureata Ho studiato Ma poi Non riesco mai a darti Quella definizione Ok dici Perché se ti racconto una cosa Poi sembra che sono solo quello Se ho studiato Sembra che ho studiato in basso Ok Va bene Allora facciamo che Possiamo anche raccontarvi Solamente tramite la nostra chiacchierata Sì E poi saranno le persone A decidere chi siete Ok Mi piace Mi piace Decidete E' la prima volta Che succede Ma mi piace Allora come dicevo Facciamo un passo Un attimo indietro Voi siete un duo Che nasce Sui social Ma Prima del duo Ci sta un'amicizia Immagino Certo Quindi dove nasce L'amicizia Tra Ilaria e Caterina Adesso rispondi Voglio vedere se trovi ricordi Ci siamo conosciute Allora io ho un ricordo Non so però se Se è vero O me lo sto immaginando Io mi ricordo Un bar Ok Io mi ricordo Il bar Quello sotto scuola Siamo là Poi non mi ricordo bene il contesto Qualcuno Ci ha presentato Sicuramente Sì Una nostra amica in comune Ci ha fatte conoscere meglio Però in realtà Io mi ricordo 12 anni Questo è successo Quando avevamo già 13-14 anni In realtà Io mi ricordo Dilaria a 12 anni Nella diciamo Piazza di quartiere Mi ricordo Che mi facevi molto ridere Cioè mi facevi ridere Sì eh Sì che eri buffa proprio È vero È vero Sono buffa un po' Sei buffa È vero Buffa Pagliaccio E siete state Super amiche Cioè che lega a me era Quell'amicizia del Siamo nello stesso gruppo Quindi siamo amiche O Da proprio Io direi Quasi subito È nato a un Tet a tet Un'amicizia Un'amicizia nostra Sì però ci direi A specificare Che io e Ilaria Non abbiamo mai avuto In tutti questi anni Un rapporto di amicizia Quotidiano Ok Cioè io e lei Abbiamo vissuto Bene o male I momenti importanti Delle nostre vite Negli ultimi 10-12 anni Sempre Cioè nei momenti importanti Sì Però Non era quella Magari quella amica Che chiamavo Il mercoledì Capito? Ok 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 Quindi in 12 anni Immagino che di realtà Vacanze di cose Ne avete fatte tante Sì C'è un ricordo Che avete dell'altra Proprio la prima cosa Che ti Insieme? Sì ovviamente insieme Un ricordo Di Ilaria Sicuramente È Latte e cereali Latte e cereali Su questo terrazzo Poi effettivamente Perché tu hai vissuto In questa casa Da quando ti conosco Poi sicuramente Abbiamo passato Tante serate In discoteca Io e Ilaria Ok Tante serate In discoteca Quindi diciamo Ilaria per me È divertimento Beh Che devo dire È un complimento Io ne ho un'altra Io ero innamorata Pazzamente di un ragazzo Bellissimo Bellissimo Vai Vabbè Non entrerò nei dettagli Ero follemente innamorata Di questo ragazzo Questo ragazzo Era fan di Coetz Ok Lo adorava Però questo ragazzo Era un po' boomer Anche Quindi non è che andava Concello Cioè se ne fregava Gli piaceva però Lo ascoltava Lo ascoltava Caterina abitava Nel palazzo di Coetz No Sì E quindi Ho detto È fatta Andavo da Coetz Che avrà piacere Di ricevere Povero Coetz Non vedrà mai Questa intervista Spero Però mi dispiace Sì Perché abbiamo fatto Di tutto Noi siamo andati Là a suonare Mi pare che Non ci ha risposto Abbiamo citofonato Allora abbiamo citofonato Io mi vergognavo Come una ladra Però ho detto Questa è una mia Amica Adesso l'aiuto Quindi abbiamo citofonato E abbiamo lasciato L'album Con un pennarello Indelebile Nella sua cassetta Della posta E Con una lettera Con una lettera Con scritto X è tuo Grande fan Ok Per favore Ci fai un autografo Scritto in maniera Più decente Cosa succede Che noi rimaniamo Senza senso Rimaniamo Nell'androne Del palazzo Per tipo un'ora Cioè perché Non potevamo andare a casa No Siamo rimaste Nell'androne del palazzo Al che poi Ci siamo spostate Siamo Andate a casa Siamo ritornate E c'era una lettera Nella cassetta Della posta Di risposta Di risposta No Della mamma di Coez Che ci Io ho ancora la lettera Tra l'altro Che ci scrive Ciao Ragazze Silvano è in tour In questo momento Non può rispondervi così Noi due Pazze squilibrate Andiamo a citofonare Al campanello Per ringraziarla Perché L'abbiamo fatta Non lo so Non lo so Perché non lo so Vabbè Perché siamo andate Ma non lo so E lei ci ha aperto Però ha detto Mi dispiace Però se volete lo chiamo Lei è carinissima La mamma di Coez È un amore Quindi super gentile Gentilissima Un saluto alla mamma di Coez Un saluto alla mamma di Coez È un tesoro Veramente Ci dispiace La maleducazione Proprio dell'età Non lo so Sì poi a quell'età Non ti rendi conto Giustifichiamo Gli atti Io volevo solo Sto capiterina Di autografo E alla fine Non ce l'ho avuto Vabbè Quindi questo Bello Bello aneddoto Mi è piaciuto E non so Se ci sono parti Che volete Ancora raccontare Del vostro rapporto Se ci sta qualcosa Che volete evidenziare Non abbiamo fatto Se noi entriamo Dici già abbiamo detto Fin troppo Va bene Allora io vi offro Un brindisi Che mi avete offerto voi In realtà Quindi vi ringrazio Alla tua Alla vostra E Entriamo Nelle stereotipe Nel capitolo stereotipe Allora Domanda Che vi hanno fatto Tutti Che però Giustamente Per chi non vi conosce È anche giusto Allora facciamo Un attimo Di background Quindi spieghiamo Correggetemi poi Se sbaglio Siete un duo Che Come contenuto principale Diciamo che Crea queste canzoni Che hanno una base Di una canzone conosciuta Sì Che però viene parodizzata Secondo il tema Ma della canzone stessa Che può essere Quindi lo stereotipo Della ragazza di Roma Nord Di Roma Sud A Natale Con i parenti Quindi creare queste situazioni divertenti Cantando Adesso Step back Come nasce Quindi per l'ennesima volta Eppure come nasce Come nasce Un videobomba In galleria Senza Sarebbero Spieghiamo Allora Praticamente era periodo Quindi pandemia Bene o male Si poteva uscire Ma insomma Ci stava il coprifuoco Andiamo a Socrate Piazzale Socrate Spiega cos'è Il piazzale Socrate A chi non conosce Piazzale Socrate È un piazzale Di Roma Giusto Si chiama Socrate Dove si vede il cupolone Il cupolone La basilica Di Sambiacupola Di San Pietro E' il cupolone Effettivamente c'è gente Non dirò Hai ragione Caterina ci riporta Un ottimo Un i piedi per terra Lei è quella razionale E quindi ci vediamo Lì E la presente che si fa Nulla Si sta in macchina Guarda il cupolone La biretta Quindi ci annoiavamo Ancora di più Abbiamo detto Fiamo qualcosa Allora entrambe Suoniamo la chitarra Entrambe ci piace Canti chiare E lo facevamo Io per i miei amici Lei per i suoi amici Facendo sempre parodie Di che ne so La vacanza L'estate insieme La scuola Ah quindi già c'era Questo format Si però ognuna Per fatti suoi Per fatti suoi Completamente E quindi insomma Avevamo questa passione In comune Quindi abbiamo detto Che facciamo Che facciamo Scriviamo una canzone Stavamo a piazzare Così Scriviamo Così Bam Quelle idee che nascono Geniali Da un momento all'altro Mi piace Stavamo a piazzare le Socrate E quindi Avevamo davanti Roma Roma Su cosa scrive la canzone? Su ciò che conosciamo Benissimo Di Roma Ok Roma E Non vuoi l'ambiente Che ci circonda un po' E quindi Vabbè Per farlo a breve Scriviamo questa canzone E poi Nei giorni successivi Gli ho detto Vabbè dai Vieni a casa mia La facciamo sul dondolo Che c'ho a casa mia Quindi è avvenuta Poi la cosa bella Tra virgolette Che non neanche Abbiamo l'ansia Di dire Oh Lo dobbiamo pubblicare Deve venire bene Esatto No Era Famolo per noi Per cazzeggio Per cazzeggio L'abbiamo fatto E l'ho postato Su un mio profilo Instagram Per solo amici Diciamo Mi seguono 50 persone E Vabbè E quindi l'ho pubblicato lì Ed è finita così Ha fatto ridere Eccetera E io gli ho detto A Caterina Certo Sarebbe provato a pubblicarlo Veramente Perché fa ridere Come cosa Tocca a te Vabbè Io Allora Era contrario No Questo è un argomento Poi che Riaffronteremo In altra maniera Io Non voglio essere Presuntuosa Mai Però Immaginavo Che questa cosa Potesse avere potenziale Ok Cioè avesse del potenziale Ok E quindi che potesse Circolare Che potesse Essere Ambilificato Esatto Ora Adesso Siamo qui Quindi è chiaro Che io Metto la faccia Sulle cose che faccio Però Non Inizialmente Invece io Non Non avevo per niente Questa roba Cioè Non Quello sai di dire Vai pubblica Non avrei mai avuto Il piacere Di essere vista Da Da sconosciuti Da altre persone Sui social Così E Mi bloccava tanto A me questo Perché Ci tengo molto Alla mia privacy E Anche se Alla fine È un video Appunto Divertente Che poi è stata Una cosa bella Non avevo Piacere Non avevo Piacere Di essere Fin troppo Sui social Ok Però Poi ho fatto Un percorso Io in due anni Che comunque Mi ha portato A capire Che In parte C'è una parte Di me Che poi è quella Che vedono tutti Chi segue Le stereotipe Vede Che è la parte Un po' più Comica Un po' più Macchietta Un po' più Leggera E sì E ho imparato A sfruttarlo Ho imparato Ad utilizzarla A mio favore Quindi Poi C'è stata Una mia evoluzione In questo Che mi ha portato Poi Nel 2023 A dire a Dilaria Vabbè Dai si pubblica Il video Chiaramente Io ormai Me l'ero scordato Sì Chiaro Chiaro Poi abbiamo accantonato Questa cosa Completamente L'anno scorso L'anno scorso Ci vediamo Eravamo annoiate Pure l'anno scorso Annoiate Ci vedevamo La sera La sera Abbiamo detto Facciamo un'altra canzone Una canzone Per un nostro amico Che non l'abbiamo mai pubblicato Che non l'abbiamo mai pubblicato E mai verrà pubblicata E Ci divertiamo A fare questa cosa Finiamo la canzone La mandiamo Ma io e lei Letteralmente Il telefono Messo in macchina E io e lei Che cantiamo Con una base Di youtube sotto Mandiamo questo video Poi ci guardiamo E pensiamo Certo che la tipica pariola romana La potevamo pubblicare Due anni dopo E quindi lei mi fa E pubblichiamola E faccio E vabbè pubblichala Il giorno dopo Un milione di visualizzazioni In un giorno In un giorno un milione Cioè Quindi diciamo che Quali sono le vibes Che avete il giorno dopo Cioè Ti svegli perché Immagio che comunque L'aspettativa C'era quella roba del Chissà Però con zero aspettative Però se non è zero aspettative Il giorno dopo Ti svegli con il telefono In tasso di notifiche Vibes Beh Felicità sicuramente Ma felicità Non per essere andata virale Felicità perché Cavolo Una cosa che ho fatto io In cui mi sono impegnata io Poi nel mio picco Perché ripeto Era una cosa che cazzo era Non è che Che abbiamo messo dieci giorni E comunque una cosa che ho fatto io Le mie idee Le nostre idee Ovviamente Stanno piacendo Quindi questo è stato Poi appunto Il successo che ho avuto Subito in giornali Le cose Oh mio Dio Ma che sta succedendo Perché poi c'è stata la parentesi I giornali No Il messaggero La Repubblica Roma Today È stato un casino E poi io lì Sinceramente Ho anche pensato Dai Meno Cioè meno Ti pare Dici Non mi date Tutte le tante No no Ti pare Cioè per una cosa del genere E ti sei mentita lì Di aver detto di sì Allora lì un pochino Ce l'ho avuta la resistenza Quando ho visto la viralità Ho detto Dio fichissimo Perché comunque è figo Chiaro Un tuo conto Comprendiamoci No no assolutamente No però poi Anche perché Essere apprezzati piace a tutti Quindi No quello è innegabile Esatto Però certo appunto Io avendo ancora un po' di remore Che comunque Boh cioè dai ti pare La mia faccia sul giornale Cioè ci sta La sua faccia con gli occhiali rosa A forma di cuore Cioè il messaggero Ha pubblicato Il frame di me Con il caschetto biondo Lampadata Con gli occhiali rosa A cuore Cioè mia nonna Mia nonna C'ha una cornice in salone Con questa cosa Cioè dai Per favore No Salutiamo anche la nonna Di Caterina Ciao nonna Ok Però sì Fa piacere Quindi c'è stato un mix di Fico Perché qual è il punto La domanda è E adesso Paura Paura Ma che Io ve la leggo Siccome mi piace All'inizio Ve l'avete fatto Per cazzeggio Quindi Va Dai Non va Cioè abbiamo L'abbiamo pubblicato Adesso Che invece Comunque Un minimo d'aspettativo Immagino ci sia Perché comunque C'avete persone Che vi seguono Che dicono Ah che figata Dai Ho mai visto che C'è un po' Quella roba del Non è più Solamente un gioco Ma Comunque Mi ci devo mettere Adesso Sì Io direi che c'è stato Proprio un momento Di switch Tra il gioco E il Potrebbe diventare qualcosa Quindi Di mezzo ci si è messa La cosa che io Me ne sono andata via Tre mesi all'estero E quindi era proprio La stiamo archiviando Come cosa Quindi non era ancora partita Quindi manco a di Ci inventiamo qualcosa Non c'erano le basi Non c'era nemmeno Troppa Troppa Passami il termine Voglia Certo Dici vabbè È stato così Diverterti Andati virali Ciao Ok Parentesi Nel frattempo Ci hanno contattato Molte agenzie Di creator Ok Che ci hanno chiesto Ci hanno proposto Di lavorare Eccetera eccetera Noi non abbiamo detto Sì subito Quindi Poi continua E quindi noi capiamo Che cavolo Effettivamente Dopo sei mesi Quattro mesi Di silenzio Chiedono ancora di noi Forse qualcosa Dobbiamo fare E quindi da là Prendiamo questi stereotipi Di cose che accomunano tutti Che può essere Natale Che può essere San Valentino Da qualsiasi Portando all'estremis Lo stereotipo Giocandoci su Perché pure lì Roma Sud Come Roma Nord Abbiamo fatta nera Cioè abbiamo detto di tutto E quindi eravamo pure pronte Alla critica Però invece la gente Ha capito l'umorismo Il tono ironico Che non è Ad oggi non è scontato No anche la gente La prende facilmente Sì E quindi questa è l'idea Portarlo all'estremis E scherzarci su Mi date un po' di spunti Quello che In qualche modo Percepisco In comune È il fatto che Siete comunque Una realtà Andata da poco C'è un po' Almeno Io pure Sono in realtà Andata da poco Ho in qualche modo Una grande aspettativa Nei miei confronti Ma in primo luogo Perché sono esigente Nei miei confronti E in secondo luogo Perché mi piacerebbe Riuscire a rendere Questa cosa Un qualcosa di Più Serio Nel senso Un qualcosa Che mi permetta Di viverci Voi Col fatto che È nato in maniera Casuale C'è questa cosa O comunque Avete un vostro Piano A E questo è Quel piano B Che dici Lo coltivi Lo porti avanti Come Diciamo Entrambe Veniamo da due Percorsi diversi Io Principalmente In realtà Poi Lavoro Attualmente Lavoricchio Per il cinema Ok E Comunque Il mio piano Di vita È lavorare Nel mondo Dello spettacolo Quindi Diciamo che Ci sono anche Delle Similarità Tra le due cose Ilaria fa Tutt'altro Sì No Come ho detto Prima Io Chiaro che Ho il mio piano A Perché già Ce l'avevo da prima Cioè Nel senso È una cosa Che è venuta In corsa Quindi io Ho continuato E sto continuando A coltivare Il piano A Ok Però Che il piano B Possa diventare A Non si sa mai Non si sa mai Esatto Cioè Diciamo che Non è Non è Questa Ancora Penso Questa attività Non è vista Come Un lavoro Magari Per la generazione Z Sì Non per Tutte le fasce D'età Chiaro Quindi ancora Non c'è un mercato Stabile Da questo Cioè Inizia ad esserci C'è una porzione Di mercato stabile Però Socialmente Magari Dici Non hai quella certezza Quella tranquillità Che potresti avere Seguendo il piano A Che è quello che può essere Lo studio Anche se Personalmente Chiaro Esatto Ho fatto Cinque anni In università Eccetera E mo che faccio Cioè Non la togli Sto qua Per carità Diciamo che Il primo pensiero Che ti viene in mente È Ti pare che investo La mia vita Su questo Poi In realtà Ormai è passato Quasi un anno Dalle stereotipe Io ti dico Sta cominciando A prendere forma Il progetto Ci sono arrivate Delle proposte Anche Remunerative Interessanti E Io personalmente Ma anche Ilaria Ci stiamo pensando A dire Cavolo Questo però Potrebbe essere Un lavoro Quindi Io No no Mi fa Deci anni fa Ilaria È legata al dito Cioè Dici Se pubblicavo Prima La magistrale Non mi evitavo Magari No però Effettivamente È una Buona occasione Questa Soprattutto Per Questa È il lavoro Di questa Genera Sì Assolutamente Problema Tra virgolette Che ripeto Una cosa Così nuova Che tu Non lo sai Ancora Capito Dici Mi butto Nel vuoto Oppure Rimango con Un piede Decistabile Esatto Bisogna essere Coraggiosi Secondo me Certo E su questo Mi collego Con due domande La prima È Se poteste Decidere Quindi Aspetta Aspetta Fallo parlare Se poteste Decidere Dove Mettere Le stereotipe Tra Sembra quasi Un colloquio di lavoro Che domanda Un colloquio di lavoro Però veramente Se poteste Decidere Cioè Avete proprio la libertà Di decidere Io tra cinque anni Questo progetto Lo voglio vedere Che ne so In un film In una serie tv Dove Dove starebbe A me piacerebbe Arrivare a un punto In cui E comunque ci stiamo Lavorando in realtà In cui io e Ilaria Miglioriamo Dal punto di vista Delle skill Che possiamo offrire Di intrattenimento Anche magari Vocale Musicale E arriviamo A un punto tale Per cui Riusciamo A Manovrare La cosa Da più Punti di vista Quindi non solo Rimanere sui social Però Che ne so Arrivare in televisione Arrivare al cinema Cioè è ovvio Che se devo guardare No chiaro Bisogna guardare in grande In grande Io la guardo così Però non ho L'aspettativa Capito Anche se A un certo punto Verrà archiviata la cosa Io sarò contenta Lo stesso Ok Dici comunque La vivi con serenità Sì sì Io sì Vai Mi collego a quest'ultimo discorso Assolutamente Con serenità Però È un po' come Dopo la prima canzone No Fai una cosa che va Dalla parte dai E dall'altra Modi Essere in grado Di farne un'altra Ancora meglio Le aspettative Poi c'è l'aspettativa Del pubblico E questo è legato a tutto Per quanto riguarda noi Beh Come dice Caterina Ci stiamo Pensando Tra virgolette Dall'altra è un mondo Così tanto nuovo Che molte cose Forse non le conosciamo Nemmeno noi Capito Cioè Il mondo del content creator Lo vedevamo dall'esterno Ma non dall'interno Quindi ci sono Cose che non sapevamo E quindi Non lo so Stiamo scoprendo un mondo Sì La specifica che vorrei fare È che In questo caso Noi produciamo contenuti Per l'online Quindi Non ci esibiamo dal vivo Chiaro È ben diverso Dal creare una canzone Per esibirsi dal vivo Quindi È più facile Da questo punto di vista A me piacerebbe lavorare Non per esibirmi dal vivo A cantare la tipica pariola romana Perché la trovo una cosa Un po' trash Sinceramente Però Per arrivare Ad avere le skill Per fare qualcosa offline Perché credo che la cosa bella No 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 Non ho cambiato idea Perché è la classica Cioè mi sembra Vedendo quello che Appunto Avete fatto negli altri podcast Detto proprio sinceramente Un po' Mettermi lì allo zoo E guardare Capito? Lo spettacolino E Faccio questa premessa Perché Perché Non c'è Correggetemi anche qui Se sbaglio Un po' L'aspettativa O comunque Il cristallizzare Le stereotipe A quelle delle canzoni Cioè Quanto questa roba Vi limita Quanto vi va bene Quanto è un problema Allora Posso dire una cosa prima Che mi hai fatto venire in mente adesso E Questa cosa Avviene sia Sempre su online E offline Avviene sia online Che offline Che mi fanno Come fai una canzoncina No ma perché Online A decidere in realtà Oltre al pubblico C'è l'algoritmo Chiaro L'algoritmo A eccezione Ne parlavamo prima A eccezione di qualche video Che è andato comunque Magari non virale Ma bene Mezzo milione di visualizzazioni Che non sono poche No Per noi No No dico Se non ci vede Sul dondolo A fare la canzone Se ci vede Tipo sul divano Dilaria O a fare un'altra roba Manda molto meno invisibilità Il contenuto Ok Quindi questa cosa Ci limita Ci limita Ci limita Sì 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 Assolutamente Poi da una parte in questo Dall'altra pure Come diceva prima Caterina Mi auguro che non starò Per tutta la vita Sul dondolo A fare video A fare video Quindi dobbiamo pure trovare Il modo per far capire Che non Che possiamo fare altro Insomma Che abbiamo le skills Per fare altro E ci sta un po' Quella paura di E che sai Stando all'inizio Di fallire Di appunto Mi piacerebbe fare altro Però poi Vengo vista solamente Come quella delle canzoncine Quindi Non ho neanche la possibilità Di sperimentare altro Certo È un buon compromesso Tra la bravura Di chi crea E chi è pronto Ad ascoltare Quello che ho da dire Ok Quindi penso sia Un compromesso Legato un po' Alla mentalità Delle persone Cioè Non ti so dare una risposta Però sì C'è La limitazione C'è sicuramente Sì For noi dobbiamo essere bravi Come dice lei Poi lo spettatore Accogliere questa cosa Il fatto che comunque Non è che scriviamo E cantiamo E basta la canzone Dentro ci sta pure Un interagire Una complicità Un fare le deficienti Però Con Come dire Con l'abilità Di far arrivare Comunque il messaggio Serio Ok Una cosa che Che ho notato Perché comunque Sono andato a vedere I vari contenuti Che effettivamente Le persone Cioè per voi Non c'è molto La questione Persone personaggio O sbaglio Beh sì Quello che si vede Quello che si vede online Su noi due Rispecchia abbastanza Poi il tipo di persone Che siamo Dal vivo Però io mi sento Caterina Delle stereotipi Per me è un quarto Di Caterina Nemmeno un quarto Di Caterina Ok Allora Vi dire che abbiamo Dato una bella Visione Anche qui Io solitamente C'è un momento Lo chiamo Foglio bianco Se ci stanno Dei temi Che non abbiamo affrontato Delle domande Che non vi ho fatto Un qualcosa Che volete Dire di vostro Quindi Se volete Vi passo questo foglio Se ci volete E scrivere qualcosa Se no mi dire no Non devo scrivere nulla Volevo sicuramente Affrontare con te Però volevo Chiedere a te Cioè vorrei Intervistare te In questo caso Ok E chiederti Cosa ne pensi Di Questa Cioè Del lavoro Di content creator Del lavoro Sui social Ed effettivamente Parlando di stereotipi Si può dire Che viene Stereotipato Questo lavoro Visto come La cosa che fai Quando non Non sai che fare Quando non te va De fare nulla Non ti va di studiare Non ti va di andare All'università Piuttosto che seguire Un percorso Più lineare Più classico No Assolutamente È un bell'assist Diciamo Quello che io noto È che Giustamente Le persone Che non Conoscono questo mondo Non hanno Idea Di cosa c'è Tutto Dietro No Cioè tu ormai Vedi Un contenuto Da 15 secondi Qui parliamo di podcast Magari sono 40 minuti Un'ora Ma dietro Quei 15 secondi 40 minuti Un'ora Ci stanno Giornate di lavoro Banalmente Oggi è domenica No Noi potremmo Decidere di Andarci a fare Il pranzo a fregene Ci godevamo La giornata Tornavi a casa E via Invece Per quanto Alla fine È una situazione Conviviale Divertente Comunque Tu stai dedicando Una parte Della tua giornata A Una cosa Che adesso È hobby È hobby E nessuno Ti garantisce Che diventerà lavoro Quindi Sono completamente D'accordo Secondo me La cosa Che tutti I content creator Dovrebbero fare È fregarsene Altamente E far di tutto Affinché Ciò che fanno Possa diventare Ciò che vogliono Farlo diventare Però Penso anche Sia Frustrante Magari avere accanto Una persona Che non riesce A comprenderlo Al cento per cento E di conseguenza Magari poi Arrivi a interrogarti Anche te Quando alla fine Le idee chiare Le avevi Se Un'eventuale fidanzata Mi dicesse A me è successo Io ho iniziato A fare video Quando avevo Diciott'anni E facevo dei video Imbarazzanti Cioè che Ovviamente Li rivedo adesso Dico Ma con quale coraggio E lei mi disse Guarda A me non piace Che fai questi video E io ho fatto Bella Tanti saluti Ciao Perché alla fine Finché non fai male A nessuno Non manchi di rispetto A nessuno A me Cioè Che potrebbero dirmi Oddio Ho visto quello Che fa Interviste alle persone Che si crede di essere Ma non è tanto L'opinione Al lavoro finito È tanto Come si dice Non valorizzare L'impegno Che ci metti Nel mentre Perché che tu mi dici Oh che canzone De merda Però so che Te ci sei impegnata Lo accetto Però che tu mi dici Non fai niente O comunque Il tuo impegno È minimo Potresti fare altro Mi dà fastidio Mi dà fastidio Perché A Non faccio solo questo B Pure se lo facessi Cioè Mi ci impegno Al cento per cento Come dice Michi È un lavoro Cioè In senso È tempo È sforzo È idee Creatività È comunque tempo Che tu levi ad altro Esatto Che possa essere Cazzeggio O altra roba produttiva Comunque roba che fai E poi per me Un mantra di vita È fai ciò che ti piace Quindi Se mi fa star bene Potrebbe essere anche Che ne so Piantare le piante Nel terrazzo Cioè Se mi piace Ma che cosa vuoi da me Questo può essere anche Un consiglio per chi ci ascolta Cioè Allontanare Almeno Questo è quello che penso io Allontanate le persone Che non supportano Ciò che fate Perché alla fine Se tu lo vuoi fare Lo porti avanti Quella roba Certo Poi ovviamente Ogni realtà è diversa Tutte le dinamiche Sono diverse Non si può fare Tutta per buon fascio Però io sono dell'idea Che se vuoi fare Una cosa falla E poi Quello che arriva Sii consapevole Che può andarti Come l'hai ragionata E sii consapevole Che potrebbe andare Totalmente al contrario E quindi Abbi un piano B Certo Sai a proposito di questo Vorrei utilizzare Un altro spazio Vai Io molto ecocentrica oggi Però no Ci tengo Proprio perché Questa è un'occasione Per dire cosa penso A me capita Spesso di scrollare I social Soprattutto TikTok E vedere Espresso Il disagio Dei ragazzi Anche più giovani Di noi Quindi magari 20 O 18 16 anni Per quello che riguarda Un po' L'ansia E Diciamo Tutto Il disagio Legato A questo A questo tema Poi in realtà Cioè Al fatto che L'accettazione Dici no? Sai cosa Abbiamo Abbiamo tantissimi impulsi Tantissimi stimoli Quindi è difficile Poi Fare un percorso Di vita lineare No? Sì E A me piacerebbe Anche con il progetto Che abbiamo io e Laria La cosa che mi piace di più È quando la gente commenta E ci dice Grazie Io oggi ho avuto una giornata Difficile Però tu mi hai strappato Un sorriso Per me questa è la cosa Più bella Che posso sentir dire E Ricordiamoci Che pur se È giusto Stare attenti alle parole Rispettare gli altri Perché sono tutti messaggi Che insomma Poi vengono mandati Ultimamente Si può scherzare Si può ridere Cioè Si può Un attimo Tenere un tono leggero Nonostante sia tutto Molto Confuso Ok E quindi no Cioè Ho un pensiero Per i ragazzi Più giovani di me Ci sono passata anche io Sinceramente Durante l'adolescenza No? L'ansia Oddio che faccio Cosa fare della propria vita Esatto Questo è sbagliato Questo è giusto Cioè Calma Perché noi adesso Siamo in un momento Di transizione È È Difficile per tutti Cioè siamo Come abbiamo detto Siamo tutti nella stessa barca Siamo tutti nella stessa barca Quindi Cerchiamo di Un attimo Avere la La capacità Di fermarci E Individuare Quello che Che sentiamo Che ci piace Brava Semplicemente Mi piace E più che altro Se mi posso legare a questo È un mix tra Trova la tua passione Quindi Perché molti dicono Eh ma io non ce l'ho una passione E allora a quel punto io Forse in maniera troppo semplice Rispondo Fai Nel dubbio Fai Sì Cioè Ti propongono di fare una cosa Che dici Oddio Fallo Sì Fallo Ti fa schifo Fallo Che poi magari scopri Che è la roba più figa del mondo Non lo so Teatro Magari te Ti hanno detto Oh ma ti va di venire Oddio non lo so Ma poi mi vergogno Ma dai vieni E poi hai finito il teatro Hai finito lo spettacolo E dici Cazzo che figata Che ho fatto Quindi secondo me È un po' quello Il consiglio Che possono dare le persone E secondo me Abbiamo fatto una bella chiacchiera Quanto stiamo? Infatti 23 Abbiamo fatto 53 minuti Ammazza Abbiamo fatto 53 minuti Vogliamo chiuderla o vogliamo Perché secondo me Abbiamo fatto un bel contenuto Sì Abbiamo fatto un bel contenuto Io andrei sulle ultime due domande Che Che in realtà è una Però siccome siete due Diventano due E Io questa la faccio a tutti Tutti i miei intervistati Rispondono a questa domanda Avete l'opportunità Di condividere Quella che io chiamo Morale di vita Quindi un qualcosa Che la vita vi ha insegnato Ok Che può essere di spunto A chi vi ascolta Oddio Ci potete pensare ovviamente E vi lascio la parola Io Allora Contesto Io sono una persona molto Scusa Mi piace essere una persona Molto organizzata Fin troppo Molto No veramente In passato mi metteva veramente ansia Questa cosa Può sembrare una cosa stupida No 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 Però io stavo male Se non avevo La settimana organizzata Perché non lo so Volevo sfruttare il tempo al meglio E quindi tendo Molte volte Ancora oggi Per quanto ora Sono molto più scialla Tra virgolette Tendo sempre a voler tutto in ordine No Devo sapere che devo fare martedì Allora con Caporella Caterina la stresso La stresso da morire Caterina Porella Però insomma sono così Però la vita Mi ha insegnato Anche con la mia ultima esperienza All'estero Che se tutto Se le cose non vanno Come nei programmi Non è un problema Ed è anche meglio Molte volte Quella cosa che succede All'ultimo minuto Che tu non avevi programmato Magari la svolta Di quella giornata Di quella settimana Di quell'anno Pure le stereotipe Le stereotipe stesse Non le abbiamo programmate noi Se noi magari La prima volta Con la pariola Stavamo qua a dire Senti questo video Lo vogliamo mettere su tiktok Magari floppava Magari non stavamo qua Sì 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 D'accordissimo D'accordissimo Quindi Vivere la vita In maniera leggera Sempre per carità Con minima organizzazione Sì Però Senza stressarsi troppo Appresso a queste cose A volere tutto quadrato Tutto perfetto Perché la perfezione Non esiste Ok Questo è il mio Consiglio di vita Mi sembra molto Mi piace Mi piace Vai Kate Allora vabbè Riprendo anche un po' Quello che ho detto prima Io ne ho avute Lezioni di vita Devo dire E Ritorno sempre Su un punto Che è Non c'è giusto Sbagliato Ok Cioè È vero Leggerezza Cioè leggerezza A me prendevano Molto in giro L'anno scorso Perché io Ogni capodanno Do la parola dell'anno Carino Quella di quest'anno Quella di quest'anno È equilibrio Ok Equilibrio L'anno scorso Avevo detto Leggerezza Chill Non mi ricordo Sì Comunque leggerezza Bisogna Bisogna avere La capacità La lentezza La lentezza Ma non la lentezza Nel senso Il sapersi ascoltare No? Il saper Prendere Una pausa Il saper Riconoscere Quello che ha intorno E lo stare E lo stare con i piedi Per terra Cioè Non farsi troppo Trasportare dalle cose Per quanto poi Io sia una Molto passionale Quindi entro Proprio Emotivamente Gamba tesa Emotivamente Eccetera Però riesco sempre A mantenere Un contatto Con la realtà Poi E a non entrare Del tutto Cioè a un certo punto Mi fermo Ok E capisco che cosa Ho davanti Quindi Fatevi domande Cioè fatevi domande Su quello che avete intorno E ripeto Non c'è giusto Sbagliato Quello che sentite Però è giusto È il vostro giusto Quello che sentite È il vostro giusto Mi piace Quindi tranquillità Leggerezza Comodità Mi piace Non stress Mi piace Ragazzi è stato un grande piacere Grazie a te E ci vediamo magari Tra qualche anno A Hollywood Eh Vabbè Grazie ancora Grazie a te